Benvenuti carissimi follower, un forte terremoto ha colpito l'Italia questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, premete il pulsante mi piace per questo video e iscrivetevi al canale, attivando la campanella su tutte le notifiche, così che riceverete una notifica. Non appena si verificherà un nuovo terremoto in Italia se la terra trema fortemente al sud, Italia, questo mercoledì sera, verso le due del pomeriggio. Secondo il centro sismologico europeo, il terremoto è avvenuto sulla costa settentrionale dell'isola di Sicilia, precisamente a 22 chilometri da Messina e ad una profondità di 120 chilometri sopra la superficie della terra. Fortunatamente questo terremoto è avvenuto in mezzo al mar Tirreno. Di conseguenza la forza di questo terremoto è diminuita, così siamo sopravvissuti a un forte terremoto, perché se questo terremoto fosse stato un po' più vicino alla terra, sarebbe stato più potente. Secondo il centro europeo per il monitoraggio dei terremoti, l'intensità del terremoto ha raggiunto i 3 gradi circa, e questo terremoto non ha causato alcun danno, solo una leggerissima scossa che non è stata avvertita dai residenti.